Ciao a tutti! Oggi prepareremo le tagliatelle con crema di nocciola e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tagliatelle, nocciole, pan carré senza crosta, parmigiano grattugiato, latte, mascarpone, olio evo, sale e pepe. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il pan carré tagliato a pezzetti, il latte, il parmigiano, il sale, il pepe e l'olio ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente aggiungere il mascarpone ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. trasferire il composto in una ciotola capiente tagliatelle con crema di nocciole e mascarpone grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti